Vai, la giornata tipo di Giacomo Casadei. Alla mattina mi sveglio, vado a scuola e poi a mezzogiorno arrivo a casa, mangio e al pomeriggio monto i cavalli insieme a mia papà che mi fa lezione e metto via i cavalli e poi andiamo a cena e poi si rinizia il giorno dopo. E quanto tempo impieghi nella tua giornata vicino ai cavalli? Dalle 4-5 ore. Va bene, ok.